Serafino Maglieri, imprenditore molisano originario di Sepino che ha fatto successo e grandi cose in Australia ma un po' in tutti i settori perché questo paese ormai si può dire che è conquistato dai molisani. Sembra un piacere tornare qui in Italia, specialmente a Sepino che io nativo di Sepino, ho lasciato il mio paese a 18 anni e siamo andati in Australia, abbiamo fatto un po' di fortuna però con lavoro perché all'estero si lavora più dell'Italia, devo dire la verità. Tornando è sempre un grande per me perché le radici sepinesi non lo dimentico mai, la patria d'Italia, l'amata Sepino è sempre con me. Torniamo perché portiamo i nipoti adesso, abbiamo questo legame che i miei nipoti vogliono tornare sempre a Sepino e mi fa molto piacere avere questo legame con il nostro paese. In Australia quali caratteristiche delle molise sono più apprezzate dalla cucina, l'enogastronomia alla storia? La cucina no, io parlo del vino, non di cucina perché di cucina guarda io mi piace buon cibo ma non so cucinare. Allora il problema è del vino sì, abbiamo dei vini che siamo a livello mondiale, devo dire la verità. Noi in Australia abbiamo dei Cabernet Sauvignon, un Shiraz famoso al mondo e oggi abbiamo iniziato anche con questi vini tipici italiani, però nel settore del vino siamo alta qualità. Franco Salzano, anche lui un imprenditore molisano originario di Agnone che ha fatto fortuna, anche lui grandi cose in Australia, però nel settore della ristorazione. Parlaci un po' della tua esperienza. Grazie Antonio per l'invito, la mia esperienza sì, io come Serafino, il nostro presidente del Murisani in Adelaide, siamo arrivati più o meno allo stesso periodo nel 69, sono di origine agnonese, ho cominciato con, purtroppo che mio fratello non c'è più, sui mobili, siamo stati i primi importatori in Sud Australia a importare i mobili, poi dopo la sua perdita ho avuto una pazzia, sono andato sulla ristorazione, ho aperto una catena di ristoranti, è andata bene, adesso sono nonno a tempo pieno, gestisce il mio genere, siamo stati bene, diciamo grazie all'Australia, però l'Italia è sempre nel cuore e dobbiamo tornare ogni anno, perché ho ancora tutta la famiglia qui, ho fratelli, nipoti, tu pensa Antonio, siamo la famiglia più numerosa di Agnone, quindi è sempre un onore tornare alle origini. Quali sono le tradizioni più forti lì ad Adelaide che i molisani in particolare tengono e non rinunciano mai? In molisani facciamo tanto, siamo un, ti dico, tra prima e seconda generazione, come comunità italiana in Sud Australia siamo circa 120 mila italiani, di molisani ne siamo un bel gruppo, noi facciamo diverse feste all'anno, adesso a settembre faremo un campionato mondiale di briscola, abbiamo mandato ai consolati di tutto il mondo gli inviti e porteremo per la seconda volta la nostra vittoria a Agnone, un'artista molisana che Adelaide, Australia, è stato il suo trambolino di lancio. Faremo una serata di gala, saremo sui 500 persone, quindi i molisani si danno da fare dappertutto Antonio. Luigi Ialenti, componente del comitato molisani di Adelaide, che atmosfera si respira nella comunità lì in Australia, ma soprattutto quanto è forte il legame con le proprie radici? Io faccio parte di una delle ultime ondate migratorie, delle ultime generazioni migrate in Australia e devo ammettere che è stata una piacevole sorpresa aver trovato parecchi compaesani, ma anche corregionali, c'è una nutrita comunità molisana che cerca di mantenere le tradizioni, la cultura molisana, anche a livello enogastronomico si organizzano delle cene, si organizzano degli eventi proprio per preservare questa comunità e con grande piacere ho scoperto che ci sono ovviamente dei molisani delle generazioni precedenti che cercano di trasmettere questi valori alle generazioni successive. Come dicevo la comunità è molto nutrita ed è stata una piacevole sorpresa. È sempre un piacere tornare qui in Molise, ovviamente le radici molisane, il cuore è sempre molisano e quindi è sempre un piacere tornare almeno un paio di mesi all'anno qui in Molise.